Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qui con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Come sempre vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è quello di denunciare, diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Rebecca Eilward nasce il 28 febbraio del 1995 nel Galles nella città di Mesteg. Ha una sorella e un fratello minore di nome Jessica e Jack che ambivano diventare come la loro sorella maggiore un giorno. Rebecca viene descritta da tutti come una ragazza gentile, positiva, sempre sorridente, divertente, scherzava spesso e era sempre di buon umore, una di quelle persone con una bella energia, contagiosa. Aveva anche un bellissimo rapporto con sua madre, Sonia. Il padre invece non è presente nella storia, i genitori di Rebecca avevano divorziato da tempo e in casa vivevano solamente appunto Rebecca insieme a sua mamma e a sua sorella e suo fratello minore. Rebecca frequenta il liceo e ha molti amici lì, tra cui due in particolare, Irving Smith e Joshua Davis. Irving e Rebecca sono legatissimi e il suo migliore amico, sono come se fossero fratelli. Passano tantissimo tempo insieme, Irving va spesso a casa sua, i due si confidano, sanno tutto l'uno dell'altra e un giorno Rebecca confida all'amico una cosa, gli confida che si stava innamorando del loro comune amico Joshua Davis. Joshua nasce e cresce in una piccolissima cittadina sempre del Galles. Aveva altri due fratelli minori e due genitori amorevoli con cui aveva avuto sempre uno splendido rapporto. Tutti riscrivono la famiglia di Joshua come una famiglia normale, amorevole, una famiglia sana. Joshua, come Irving, passava anche lui molto tempo a casa faceva praticamente parte della sua famiglia. Ai genitori di Rebecca quel ragazzo piaceva tantissimo, era una di quelle persone che ci sapeva fare con la gente, era anche lui sempre gentile, affascinante, divertente, era un piacere stargli attorno. Ma non tutti la pensavano così. Irving, per esempio, il migliore amico di Rebecca lo trovava odioso. Lo sopportava soltanto perché appunto Rebecca stravedeva per lui e lui le voleva bene, ma pensava fosse semplicemente un tipo troppo arrogante e pieno di sé, consapevole del potere che aveva sulle altre persone. Tutti lo trattavano quasi come un dio. Anche in famiglia era portato su un piedistallo, ammirato dai suoi fratelli minori e quasi venerato dai suoi genitori. E a Joshua tutto questo piaceva molto, gli piacevano tutte le attenzioni, gli piaceva avere tutto sotto controllo, essere il maschio alfa. Comunque da un po' di tempo Joshua e Rebecca avevano una storia, una relazione e i sentimenti di Rebecca stavano iniziando ad intensificarsi. Si era appunto innamorata di lui, era il suo primo vero fidanzato e tra i due c'era molta complicità. Ma in realtà il loro rapporto non era proprio tutto rose e fiori, anzi. I due litigavano spesso, si prendevano e si riusciavano. E questa cosa a Joshua in un certo senso piaceva. Nel senso che, come vi ho detto, Joshua era un tipo molto affascinante, carismatico ed era abituato ad essere attorniato da persone che pendevano dalle sue labbra, che facevano tutto quello che voleva. Rebecca invece non era così. Sapeva tenergli testa, non pendeva dalle sue labbra come tutti gli altri, aveva sempre la risposta pronta e non aveva paura di dirgli di no quando qualcosa non le stava bene. E questo infatti causava delle bruttissime litigate tra loro. Ma portava anche Joshua ad essere sempre più attratto da lei, come se fosse una sfida. Joshua era ossessionato dal controllo e voleva controllare ovviamente anche Rebecca. Le controllava di continuo il cellulare e le leggeva costantemente il diario. Rebecca teneva un diario in cui scriveva tutti i suoi pensieri e Joshua voleva leggere quello che scriveva a tutti i costi. Tant'è che ad un certo punto Rebecca aveva addirittura chiesto a sua madre di custodirglielo lei in modo che Joshua non potesse più leggerlo. La loro storia continua. Si erano rimessi insieme da circa tre settimane e passano un weekend insieme. Joshua lo passa a casa di Rebecca insieme alla sua famiglia e passano un weekend bellissimo in cui ridono, chiacchierano, lui si fa mettere lo smalto sulle unghie da lei, insomma passano il tempo insieme anche insieme ai fratellini di Rebecca e si divertono un sacco. Tutto sembra andare per il meglio ma il giorno dopo all'improvviso Joshua le aveva scritto un messaggio dicendole di voler rompere con lei solo poche ore dopo essere andato via da casa sua e non le dà nessuna spiegazione. Ovviamente Rebecca ci rimane di sasso. Avevano appena passato un weekend bellissimo insieme in cui appunto sembrava tutto perfetto. Non aveva alcun senso quel messaggio ma Joshua sembrava aver preso la sua decisione e non solo. Da quel momento sembrava proprio aver iniziato ad odiare Rebecca. Non le aveva più rivolto la parola e aveva iniziato a parlare malissimo di lei a tutti. Aveva iniziato a diffondere cattiverie sul suo conto. Addirittura era andato a dire a tutta la scuola che fosse incinta e poi l'aveva anche presa da parte per dirle di dover assecondare quel pettegolezzo. Doveva dire a tutti che fosse vero che appunto era incinta cosa che lei però ovviamente non fa. Joshua improvvisamente era ossessionato dall'odio che provava per lei. Tant'è che alcuni suoi amici ad un certo punto gli avevano detto ok Joshua abbiamo capito che la odi però pazienza cioè basta tanto tra poco finirai la scuola andrete in due scuole diverse e non la vedrai mai più. Ma Joshua aveva risposto che il solo pensiero che Rebecca esistesse nel mondo lo faceva andare fuori di testa. La odiava così tanto che non poteva tollerarne l'esistenza anche se non l'avesse mai più vista. Non importava. Aveva anche iniziato a dire cose molto inquietanti ai suoi amici ovvero tutti i modi in cui l'avrebbe voluta uccidere. E questo è sicuramente un campanello d'allarme ma invece nessuno fa nulla. E questo perché dovete sapere che Joshua aveva sempre avuto un debole per questo genere di cose un po' macabre, un po' dark. Gli piaceva collezionare vecchie armi, coltelli ma non solo. Gli piacevano in modo morboso storie horror, storie di violenza, faceva spesso disegni molto inquietanti. Questi erano un po' i suoi interessi ma non aveva mai dato segno di squilibrio. Non aveva mai avuto comportamenti violenti poi nell'effettivo. Quindi in realtà nessuno si è preoccupato. Pensavano semplicemente che quelle considerazioni su come avrebbe voluto uccidere Rebecca facessero parte del suo solito dark humor che era solito avere. Nulla di più. Comunque dopo qualche mese Rebecca inizia ad andare avanti con la sua vita, inizia a non pensare più a Joshua, inizia ad essere di nuovo felice. Infatti inizia anche ad uscire insieme ad un altro ragazzo e da manuale appena Joshua vede che Rebecca iniziava a essere felice senza di lui, puntualmente lui tornava. Aveva bisogno di esercitare del controllo su di lei. Le diceva cose tipo che poteva uscire con chi voleva, tanto nessuno sarebbe mai stato alla sua altezza o che a sua madre, alla madre di lei, tanto non sarebbe mai piaciuto nessun altro ragazzo quanto invece le piaceva lui, Joshua. E più lei lo ignorava, più continuava ad andare avanti con la sua vita, più lui si adirava con lei e il suo odio verso di lei cresceva sempre di più. Joshua riesce in qualche modo a convincere il loro gruppo di amici, perché chiaramente lui e Rebecca avevano tantissimi amici in comune, li convince a smettere di parlarle e a isolarla completamente così che lei si ritrovasse ad un certo punto senza amici. E tutto questo era inebriante per lui, questa sensazione di potere, di controllo e questo è un comportamento molto comune nei narcisisti. Una mattina Joshua era andato a far colazione con i suoi amici nel solito baretto della città in cui si incontravano praticamente tutti i giorni. Joshua aveva iniziato a parlare per l'ennesima volta di quanto di essere Rebecca, di quanto volesse ucciderla, al che uno dei suoi amici, che non ne poteva più di questi suoi discorsi, gli aveva detto in tono scherzoso ok facciamo così, se la uccidi davvero ti offro una colazione, basta che la smetti di parlarne. I ragazzi allora iniziano a ridere di questa scommessa, diventa un po' un inside joke tra loro, haha ok sì preparati a pagarmi la colazione, sarà una colazione super abbondante, inizia a sganciare i soldi, non so cosa si sono detti ma mi immagino una conversazione un po' così. Comunque questa scommessa diventa oggetto di battute e risate per molto tempo tra questi amici. Pochi giorni dopo Rebecca si ammala e finisce per diverso tempo in ospedale perché i dottori non riuscivano a capire che cosa avesse. Aveva iniziato a vomitare spesso e anche a perdere i sensi, aveva un male allo stomaco lancinante e ha dovuto perdere settimane di scuola. Durante la sua malattia riceve visite, messaggi, insomma riceve le attenzioni di tutti i suoi amici. Irving, il suo amico, le sta vicino, i suoi compagni di classe, insomma tutti tranne Joshua ovviamente. Lui non le aveva neanche mandato un messaggio per sapere come stesse. Dopo un po' comunque Rebecca era guarita da sola, i dottori non avevano mai capito la causa di questo malessere improvviso ma l'avevano comunque dimessa e dopo un po' era potuta tornare a scuola e alla sua vita normale. Il tempo passa e quella guerra tra Rebecca e Joshua sembra finalmente essere cessata. La loro relazione amorosa sembrava essere finita definitivamente ma dopo ben nove mesi Rebecca riceve un messaggio da Joshua. In questo messaggio lui le chiedeva di incontrarsi e aveva un tono amichevole, un tono che Rebecca non percepiva da parte sua ormai da tanto tempo. Questo messaggio innesca in lei tutto un turbinio di emozioni e si rende conto di provare ancora dei sentimenti per lui nonostante sapesse che il modo in cui si era comportato fosse sbagliato ma sapete da adolescenti è facile che ci si faccia travolgere dalle emozioni. L'autostima è già molto fragile e in più avere a che fare con questo tipo di persone manipolatrici e narcisiste danneggia l'autostima ulteriormente a maggior ragione in un'età così fragile. Quindi in un certo senso Rebecca sentiva di dover tornare da Joshua, di doversi far accettare da lui. Quindi infine risponde a questo messaggio e accetta l'invito. Per l'occasione Rebecca si compra addirittura dei vestiti nuovi, si prepara, era palesemente un incontro molto importante per lei. Quel giorno il 23 ottobre Rebecca si avvia verso il luogo in cui avevano deciso di incontrarsi ma Joshua inizia a giocare con lei, inizia a cambiare posto di continuo, la manda in una specie di caccia al tesoro, le manda degli indizi, delle indicazioni su dove andare, la fa arrivare in un luogo e poi le dice no ho cambiato idea devi venire in quest'altro posto, insomma inizia a fare questo gioco. La fa arrivare fino ad un grosso parco che era una specie di bosco, un po' una boscaglia e dopo un po' Rebecca perde la pazienza, non riusciva a trovarlo, non capiva che gioco stesse giocando e decide quindi di telefonare a sua mamma. Racconta a sua mamma che cosa stava succedendo e lei e sua mamma avevano un rapporto appunto bellissimo, parlavano di tutto e Sonia sapeva che la figlia fosse molto emozionata di andare a quell'appuntamento ma sentendo come stava andando la cosa le dice Rebecca lascia perdere e torna a casa, non le piaceva l'idea che sua figlia fosse da sola a girovagare per un bosco in quel modo ma proprio in quel momento Rebecca vede Joshua da lontano e lo dice a sua madre e gli dice a mamma guarda l'ho trovato. La madre però le dice di rimanere al telefono con lei fino a quando non sarebbe stata insieme a Joshua così almeno sarebbe stata tranquilla. Rebecca raggiunge Joshua saluta sua mamma le dice che le vuole bene e riaggancia il telefono. Quella sarà l'ultima volta che Sonia parlerà con sua figlia. Dopo qualche ora verso le 5 del pomeriggio Sonia la mamma di Rebecca si rende conto che sua figlia non si era ancora fatta sentire e questo non era da lei. Le manda dei messaggi e la chiama al cellulare ma non riceve nessuna risposta quindi inizia subito a preoccuparsi. Chiama subito Joshua ma anche lui non risponde al telefono. Telefona anche a tutti gli amici di Rebecca, a Irving, a altri compagni di scuola ma nessuno l'aveva vista. Allora sua madre Sonia sale in macchina e inizia a cercarla per tutta la città. Va in tutti i posti in cui sapeva di poter trovare sua figlia ma non la trova da nessuna parte e dopo qualche ora ancora si era ormai fatta sera decide di rivolgersi alle autorità e denunciare la scomparsa di sua figlia. Circa un'ora dopo aver denunciato la scomparsa di Rebecca la madre Sonia riesce a mettersi in contatto con Joshua che finalmente le risponde al telefono e le dice di non aver mai visto Rebecca quel giorno. L'aveva sì sentita per telefono ma non l'aveva mica vista. Sonia allora capisce che qualcosa di terribile doveva essere successo. Sua figlia non le avrebbe mai mentito così, il loro rapporto era quasi quello di due amiche. Rebecca le aveva telefonato, le aveva detto di vedere Joshua da lontano con i suoi occhi quindi Sonia sapeva che stesse andando ad un appuntamento con lui. Non se lo sarebbe mai inventato ma non avrebbe neanche mai sospettato che Joshua mentisse. Vi ricordate a Sonia Joshua piaceva molto, si fidava di lui e poi al telefono lui sembrava realmente preoccupato quindi si promettono a vicenda che non appena avrebbero avuto notizie di Rebecca l'uno avrebbe informato l'altra e riagganciano il telefono. La polizia inizia a cercarla ovunque ma senza successo fino a che la mattina dopo il 24 ottobre la polizia riceve una telefonata da parte di un amico di Joshua uno di quelli con cui si incontrava tutte le mattine al bar per far colazione. L'amico dice alle autorità che aveva il sospetto che Joshua avesse ucciso Rebecca. Gli dice che il giorno prima intorno all'ora della sua scomparsa infatti i due dovevano incontrarsi proprio nel bosco in quella boscaglia lì vicino e gli dà anche le indicazioni per arrivare nell'area in cui sapeva che i due avrebbero dovuto incontrarsi. La polizia allora si reca immediatamente sul posto e infatti proprio lì trova il corpo senza vita di Rebecca Aylward. Rebecca era stata colpita alla testa con una grossa pietra in modo così violento che il suo cranio era stato fracassato. La polizia allora va subito a casa di Joshua e lo arresta ma non solo lui arrestano anche il suo amico quello che li aveva contattati e quando iniziano ad interrogare l'amico vengono fuori tutta una serie di aneddoti davvero inquietanti. Racconta di tutte le volte che Joshua aveva parlato di voler uccidere Rebecca, del fatto che ai tempi nessuno lo aveva preso sul serio ma chiaramente con la morte effettiva della ragazza era chiaro che quelle di Joshua erano più che battute un po' dark. Racconta le autorità di tutti i modi in cui diceva di volerla uccidere. Una volta aveva detto di volerla portare vicino ad un fiume e spingerla dentro sapendo che non era capace di nuotare. Un'altra volta aveva detto di volerla avvelenare e a quanto pare aveva proprio cercato su internet come produrre un veleno e aveva persino acquistato le cose per farlo ovvero un tipo di pianta che si chiama digitalis che fa questi fiorellini molto carini a forma di campanelle violacee molto carini ma letali a quanto pare e aveva anche acquistato della bella donna le cui bacche sono infatti molto velenose. A quel punto si rendono conto che Joshua avesse già cercato di uccidere Rebecca in passato perché vi ricordate quella misteriosa malattia che l'aveva colpita e che l'aveva costretta a rimanere in ospedale per lungo tempo proprio perché i dottori non riuscivano a capire che cosa avesse? Beh il suo malessere probabilmente era stato proprio causato da Joshua che aveva creato questo veleno usando queste piante le aveva mixate insieme e le aveva versate in una coca cola e in qualche modo aveva somministrato questa bevanda a Rebecca senza che lei se ne accorgesse. La polizia infatti trova questo intruglio a casa di Joshua dopo averlo arrestato. L'amico sempre durante l'interrogatorio racconta le autorità anche della loro scommessa quella in cui lui annoiato dai continui discorsi di Joshua su come avrebbe ucciso Rebecca gli aveva detto se lo fai davvero ti offro una colazione e pare che qualche giorno dopo Joshua avesse mandato un messaggio a questo amico dicendogli preparati a offrirmi una bella e grossa colazione quindi lui facendo due più due ha capito che fosse serio. Comunque a quel punto è chiaro che il colpevole fosse Joshua ma lui invece negava tutto anzi incolpava il suo amico sosteneva che fosse stato lui il suo amico ad ucciderla ed ecco il perché questa è la versione dei fatti di Joshua. Joshua dice alle autorità che quel giorno lui e Rebecca dovevano infatti incontrarsi ma avevano deciso insieme di fare uno scherzo a questo amico e lo scherzone era che Rebecca avrebbe dovuto fingersi morta. Joshua avrebbe chiamato l'amico fingendosi impanicato e dicendogli oh mio dio vieni qui è successa una cosa devi venire qua nel bosco e una volta arrivato lì Rebecca sarebbe tornata in vita e lo ridere. Quindi Joshua racconta che questo è quello che è successo ma nel momento in cui Rebecca aveva spaventato il suo amico tornando in vita e facendogli boo il suo amico in preda allo spavento e alla rabbia aveva preso una grossa pietra e in quel momento l'aveva uccisa. L'amico invece ribatte che no le cose non erano andate così ma ammette che Joshua lo avesse chiamato e gli avesse detto di raggiungerlo nei boschi perché doveva mostrargli una cosa e lui infatti era andato e aveva visto con i suoi occhi il corpo senza vita di Rebecca lì per terra. Le autorità quindi arrivano alla conclusione che Joshua da solo aveva commesso quel crimine. Avevano tantissime prove contro di lui avevano tutti gli atti di bullismo contro Rebecca avevano il veleno avevano i messaggi di Joshua che chiedeva a Rebecca di incontrarsi quel giorno e le testimonianze di molti suoi amici e compagni di scuola tutti sicuri che fosse stato lui. Joshua quindi viene arrestato e rimane in prigione fino all'inizio del suo processo che inizia circa un anno dopo il 20 giugno del 2011 e a quel punto il caso era diventato davvero famoso. Tutti i giornali ne parlavano con titoli come giovane killer uccide ex fidanzata per una colazione gratis. In tribunale Joshua era rilassatissimo calmo aveva questo sorriso beffardo stampato in faccia che faceva imbestialire la famiglia e il migliore amico di Rebecca Irving che erano presenti in aula. Notano che in aula non avesse alcun interesse nello svolgimento del processo. L'unico momento in cui aveva mostrato interesse era stato quando i testimoni avevano iniziato a parlare di lui descrivendo il suo modo di essere che cosa pensava la gente di lui come lo vedevano i compagni di scuola. Per il resto la sua espressione è rimasta quella di strafottenza. Viene fuori anche il motivo per cui Joshua non aveva voluto incontrare Rebecca alla prima location. Ci si era chiesti perché le avesse proposto un luogo per poi farla arrivare lì e proporgliene un altro. Perché aveva voluto farla girare come una trottola in questo modo? Era solo un gioco? Un gioco di potere? Un gioco di controllo? Oppure c'era un altro motivo? A quanto pare c'era un altro motivo. Joshua se l'era proprio pensata. Praticamente facendole fare il giro che le aveva fatto fare per arrivare in quel punto nel bosco le aveva fatto evitare tutte le telecamere di sorveglianza dell'area. E uno dei luoghi in cui l'aveva fatta passare era stato davanti alla casa di quell'altro ragazzo con cui Rebecca era stata. Così che potesse dare la colpa a lui sperando che lo incriminassero vedendo dal gps che Rebecca era stata davanti a casa sua. Rendetevi conto della cattiveria. Parlano anche della modalità dell'uccisione perché Joshua in un primo momento aveva tentato di starare Rebecca ma non ci era riuscito. La scelta di questo metodo, lo stato manuale è tipica dei narcisisti, delle persone con manie di controllo perché è un modo molto intimo di uccidere qualcuno perché senti tutto, hai letteralmente la loro vita tra le tue mani. Quindi insomma questa scelta era proprio compatibile con i tratti della personalità di Joshua. Ma non essendo riuscito ad ucciderla in quel modo perché come dirà parecchi anni dopo non è così facile come uno può pensare, aveva infine preso una grossa pietra e aveva utilizzato quella. Vengono letti anche i messaggi che si era scambiato con i suoi amici intorno all'ora del delitto. In uno di questi c'era scritto, un suo amico gli aveva chiesto sei ancora con Rebecca e Joshua aveva risposto definisci con. Tipo per dire sì sono con Rebecca ma lei è morta quindi sono con il corpo di Rebecca. Ma nonostante tutto ciò Joshua si dichiara innocente, nega di essere stato lui e continua ad incolpare il suo migliore amico. Alla fine del processo il giudice definisce l'imputato come subdolo, calcolatore e controllante che non aveva mostrato neanche un briciolo di rimorso. E dopo quattro giorni di deliberazione la giuria emana il verdetto colpevole. Joshua Davis viene condannato a passare tutta la sua vita in prigione con un minimo di 14 anni prima di poter provare a chiedere la libertà condizionale. E anche dopo il verdetto Joshua ha continuato a dichiararsi innocente. Per otto lunghi anni ha continuato a sostenere di essere innocente ma infatti dopo appunto otto anni ha ammesso tutto. Ha ammesso di averla uccisa lui e solo lui. Però non ha mai rivelato il motivo cioè perché perché ha dovuto ucciderla. Nessuno ha mai capito il vero motivo di quel gesto. Si pensa però che il fatto che Rebecca fosse l'unica a vedere Joshua per quello che davvero era, a vedere la sua vera essenza e a non adorarlo come gli altri abbia fatto scattare qualcosa di orribile dentro di lui. E la cosa più triste secondo me è che a Rebecca Joshua piaceva e le piaceva per quello che era davvero. Gli teneva testa, lo trattava come una persona normale ma le piaceva così come era. Invece lui aveva questa mania di grandezza, voleva essere trattato come un dio, non come una persona normale. Voleva essere adulato, voleva essere temuto, voleva avere controllo sulle persone. E il fatto che con Rebecca non ci riuscisse, il fatto che Rebecca fosse l'unica su cui non aveva questo tipo di potere, lo faceva imbestialire. E questo avrebbe senso anche con la frase che Joshua aveva detto. Vi ricordate che anche se non avesse mai più visto Rebecca, il solo pensiero della sua esistenza, il solo pensiero che Rebecca ci fosse, che esistesse da qualche parte nel mondo, lo faceva imbestialire. E secondo me questo significa un po' il solo pensiero che esista qualcuno su cui io non ho potere, su cui io non ho controllo, mi fa sentire male, mi fa entrare a contatto con me stesso in un modo che non mi piace, che non riesco a gestire. E quindi devo uccidere questa persona, che mi fa sentire quello che davvero sono, perché quello che davvero sono non mi piace per niente. Fatemi sapere se anche voi la pensate così o se pensate qualcosa di simile, fatemi sapere che cosa pensate voi di questo caso e se lo conoscevate già. E queste amici miei sono purtroppo tutte le informazioni che ho su questo caso. Lasciatemi un commento come al solito e come al solito io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo qui con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao!